Scopri il mondo e te stesso ad Hawaii Tokai International College, un'università accreditata che ti consentirà di ottenere una laurea associata in soli due anni. Conosci il Giappone e tante altre culture provenienti dai nostri studenti internazionali. Studi all'estero con borse di studio generose e moderni alloggi disponibili. Hawaii Tokai International College, l'ingresso per il tuo futuro. Grazie per la visione!